Con l'assessore comunale Tommaso D'Aloia per parlare delle certificazioni online e dei timbri online. Quanto è importante per la semplificazione delle procedure burocratiche questa scelta di poter effettuare certificazioni online? È fondamentale, infatti, attraverso questo servizio l'amministrazione fornisce al cittadino la possibilità di poter ottenere una serie di certificati che prima potevano essere erogati esclusivamente recandosi materialmente presso gli uffici comunali. Attraverso questa scelta dematerializziamo il 60% dei certificati che vengono rilasciati. Il Comune di Bergamo rilascia in media 100.000 documenti l'anno, circa 60.000 potranno essere rilasciati attraverso questa nuova modalità, ma il dato importante è che attraverso il timbro digitale l'amministrazione comunale fornisce al cittadino un servizio tutti i giorni della settimana, quindi 7 giorni su 7 in qualsiasi ora del giorno senza alcun costo aggiuntivo. Le operazioni sono semplici, quindi per tutti, anche per le persone di una certa età, o bisogna avere competenze particolari? Il timbro digitale può essere fruito da chiunque, purché abbia un computer da casa e sia in possesso o della carta regionale dei servizi o di una password che viene rilasciata dall'amministrazione comunale.